Quanti anni ha questa? Amore! Tu hai venduto? Lo sa lui venduto o no? Buongiorno! Quanti ne hai i begore? 160 o 160 Non qui tutti, no? No, non ci sono tutti Ma ora è ora di spacciare No! E' il capo di spacciare Quanto? Quanto li fa la bacchina? La bacchina? Un giorno... Quanto li sono? Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.